Hooter contro Rexxar! La caccia abbia inizio. Mi batterò con onore. Mi batterò con onore. Mi sento indisposto! Mi dispiace. Inizia male. Ma c'ho un mio amico che gioca a Heroes of the Storm. Sì, ma non vuole venire in TS. Perché? Non lo so. Mi ha detto che se non gioca in team è difficile. Non lo so. Dovrei fare una combo da 2-4-7. Come faccio? C'ho due lanciatori di coltelli e una adunata militare. non lo so. Non lo so. Però al stesso tempo potrei. Non lo so. 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 Perché se non lo so, che ho sei guggi. Sprega tre-seguggi per farmi fuori il 3-1-1. No. E io quasi quasi di butto giù due lanciatori di coltelli. O una Misti. No, la Mistica me la tengo perché santo che lui ce l'alzo. Mettiti questa mela in... Mettiti questa mela in... Mettiti questa mela in... Mettiti questa mela in... e un 1-2 di arma in mano è segreto e mi ero tenuto una mistica senza servitore non so mi dispiace ho fatto una cazzata perché vabbè però non è successo niente ruba segreto due danni tutti nemici grazie mo guitta guarda altri segugini? no mi sta facendo danni a best è arrivata l'ora di abbassare il costo di ragna rossa cazzo mi ha regalato un cristallo di mana e io abbasso il costo di ragna rossa comunque e anche di ira vendicatrice ma prima mi dispiace ah lui è perplesso allora un best casuola carica 4-2 non ti conveniva se mi attacca muore quindi deve distruggere il 4-3 mi dispiace è bellissimo è bellissimo sto paladino presuntuoso si funziona ah più due attacco va fuori il 5-5 chissà perché me lo aspetta guardi che gli giocherò un ragnaros più salute di tutti i servitori 4-3-7 mi dispiace c'è due attacco bim grazie non mi ha accusato il suo segreto pensa che bello grazie